Questa è la validissima nostra collaboratrice Lopresti. Angelica Lopresti per servirla. Lopresti in cognome calabrese? No, mi sono di colonne morsese. Se non ha zaccato a uno. Ma lei c'ha la festazione delle città, scusate. No, mi piace abbinare i cognomi e capire uno di che regione. Comunque mi fa molto piacere avere una bella donna in macchina, almeno. Insomma, la serata passa più allegramente con gente in sesso, molto diete. Tanto piacere. La nostra gente Lopresti è camionessa di judo e karate. Ah, è brava. Sì, ma non ti direbbe dal primo. Mi stava stritolendo. Lopresti.